Una boccata d'ossigeno del governo per le regioni svantaggiate e almeno 25.000 posti di lavoro. Arrivano i contratti di sviluppo per salvare e incentivare l'occupazione anche in Puglia. Nel meridione dei 24 contratti, 12 sono stati già stipulati, altri sono in dirittura d'arrivo. Nel primo gruppo troviamo quelli della Bridgestone di Modugno, che produce pneumatici e per cui sono stati investiti oltre 41 milioni di euro. Tra i progetti da stipulare invece troviamo il gruppo Siciliani, società dei palo del Colle, che lavora nel settore delle carni, su cui sono stati investiti 16 milioni e mezzo di euro. Una cifra che servirà ad aumentare il numero degli addetti fino a 157 unità. Per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi si tratta di un segnale di cosa si può fare con il contributo dello strumento della politica industriale. Così il nostro Paese, ha aggiunto il Premier, alla fine dei mille giorni sarà nelle condizioni di guidare la politica industriale europea e non essere un fanalino di coda. Grazie per la visione!